Ragazzi, andiamo a guardare il dono di tutto lo spacco, da favorevole, Salve Fruteghi! Ma ora, per il primo match, che sarà un match singolo, 1-4-1, il primo competente! Proveni da Warzone in Italia, con un mese di 736 milagrandi! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.